Start, 2, 1, Mystery Mission, and Liftoff! Non lo conosco bene, ma sono riuscito a capire, perlomeno, qualche base. È un gioco che ricorda molto concetti come Digordai o Terraria. Abbiamo questo mino che si schianta, qua abbiamo una sorta di inventario nell'astronave, ma, altra cosa interessante, che potete anche, appunto, vagare per il pianeta, è il pianeta che è sferico, ma arrivati qui poi vi riporta di là, in pratica morite. E l'altra cosa interessante, nonché innovativa, è che più scendete in profondità, più la temperatura del suolo aumenta e quindi più c'è il rischio di morire. Arrivati a una profondità neanche profonda, diciamo più di tanto, inizierete a perdere vita. Vedete che io adesso ho solo 28, già qui inizia un pochino a scendere. Adesso sto... non sono messo... eh no, non compare ancora. Ok, vedete che è comparso qua, 12%. Quando raggiunge il 100%, raggiungiamo il livello di ustione e quindi dobbiamo andarcene. Scavando sottoterra, otterrete i materiali usando... Allora, il sistema... inizio a presentarvi questo. Il sistema di selezione dell'inventario è abbastanza scomodo, ma credo sia questione di abitudine. Perché io al momento, vedete che ho qua tutti questi oggetti, posso prenderli, me li scambio in automatico con quelli che ho a terra, poi se premo Q posso scegliere lo slot di utilizzo rapido. Io scelgo il piccone e quindi vado avanti a scavare. Allora, intanto, qua torna la visibilità normale. Io premo 1, così seleziono il blocco e lo posiziono in modo da poter tornare su agevolmente. Ora, io ho fatto la fornace. Una cosa molto interessante è che questo gioco assomiglierà andando avanti sempre più a un Satisfactory. Perché quello che potrete fare è creare delle catene di produzione, creare dei tubi che vi trasporteranno l'acqua e le varie cose, perché anche noi avremo bisogno di mangiare, ma per dire anche le piante e le varie cose avranno bisogno comunque di nutrimento. La cosa interessante è che se io clicco adesso su... Ops, no, non volevo colpirlo. Mannaggia me. Se uso la fornace, io posso mettere la legna all'interno, qui, e i minerali qua, per i frammenti di ferite che al momento ho qua. Quindi vedete che io adesso li prendo, clicco una volta, li distribuisco, metto all'interno la legna. Ma non produce nulla, perché dovete ruotare voi la ruota e man mano producete il più velocemente possibile. Questo, secondo me, l'hanno fatto perché poi andando avanti si andrà ad aumentare l'automazione, l'automatizzazione. Infatti per aprire questo forziere dobbiamo usare un generatore. La cosa interessante è che col tasto V abbiamo una creazione, diciamo, alla Minecraft. Quindi andando a scegliere, posizionando i pezzi nell'ordine giusto, o andando qua e scegliendo cosa craftare, possiamo farlo. Vedete, abbiamo un meccanismo di base, abbiamo una manovella, un generatore a manovella e una fornace. Ma non è finita qui, perché se andiamo qui a filtrare, anzi addirittura andiamo, oddio, sul pannello della ricerca, c'è la possibilità di andare a prendere un oggetto, posizionarlo qui, proprio nella ricerca, e lui in automatico scansionerà quell'elemento e ci darà cosa possiamo fare con quell'elemento lì. In questo caso sto scansionando tutto quello che ho, quindi il legno, vediamo se questo mi dà qualcosa o no. Qua mi permette di tornare indietro al, vediamo un po', cibo, mi dà qualcosa o no. Ed è molto carina questa cosa, perché quando iniziate a recuperare un po' di roba nuova, vi permette di scansionare, di trovare nuovi progetti. Ok, fatto questo, noi adesso possiamo andare qua a fianco a scegliere i filtri, quindi andare a vedere tutto quello che è cibo, quello che non è cibo, quello che è rarità più o meno appunto rara come qualità di oggetto, gli strumenti da utilizzare, le armature, le armi, infatti io adesso ho craftato delle lance, una lancia che ha il 94% di durata e ora possiamo provare ad andare a fare il generatore a manovella. Cliccando vedete che ci dice che ci serve un meccanismo base e legno, quindi io faccio un meccanismo base, il meccanismo base mi chiede qualsiasi tipo di lingotto, quindi in questo caso io posso, cliccando qui, andare a riempirlo col primo materiale utile che trovo e me lo piazzo qua al centro perché io voglio andare a fare la fornace. La fornace... No, non la fornace, la manovella. Ok, mi manca questo che però ho fatto cadere, quindi ok, recupero così, lo piazzo qui e posso craftare il mio generatore. Ora butto via questo che non mi interessa e posiziono il mio generatore a manovella che però non ho spazio dove mettere, quindi prendiamo il tasto 8 e creo una piattaforma. Ok, ora tasto 8, posizioniamo il mio generatore. Andando qui possiamo andare a costruire, quindi tenendo premuto sui due ingranaggi lo costruiremo. A questo punto abbiamo il mio primo generatore. Usiamo la manovella e vedete che ruotando noi generiamo energia. Ora, attiva la visuale dell'energia C, quindi possiamo premere più, possiamo premere qui ed è connesso e in questo caso possiamo andare ad apparire... No, non ce l'abbiamo ancora. Devo capire come funziona. Da qua a qua, da qua. Ah, qua, ok. No, non ho capito come funziona. Dovrebbe essere connesso. Apertura, tra pochi secondi si aprirà. Ok, e abbiamo aperto, abbiamo trovato dell'esperienza. E quindi questo ci sta portando avanti come tutorial. Tra l'altro io adesso potrei buttargli dentro qualcosa. Beh, clic destro che mangio. Abbiamo della roba, abbiamo un motore a vapore, abbiamo un estratto di cristalli. È tutta roba interessantissima. e il robottino ci guida. Ora che hai aperto quel forziere, dovresti iniziare a pensare alla sopravvivenza. Perfetto. Quindi, mi vuoi anche suggerire come fare? Perché poi si potrà andare anche, credo, su altri pianeti. Premi conto per attivare la serie intelligente dello strumento adatto a interagire con un oggetto. Questo è molto utile, dato che abbiamo comunque la pala a laccetta, possiamo fare varie cose. La inocchiata al restatore di cristalli ti permetterà di ottenere una fornitura stabile di minerali. Ti basta costruirlo sopra a qualsiasi blocco di cristallo e collegarlo a quel motore a vapore. Abbiamo dei cristalli? No. Al momento non ce ne sono, quindi abbiamo un bel problema. Vedete che abbiamo... Ah, no, ok. Questo. Questo può esplorare liberamente. Ok, vediamo se funziona. Vediamo come funziona. Se io vado qui... No, vado, premgo la V. Faccio la produzione di... No. Cavolo, ce l'avevo qui. Prendo questo, lo piazzo qui. Quindi prendo il tasto 6, lo metto qui, vediamo se funziona. Questo... No, questo è l'equipaggiamento, scusate. Lo piazzo qui. Costruisco. Ok, qua abbiamo ancora una carica. Cinque minuti. Ah, usa un motore a vapore. Ok, no. Non funziona con questo. Non è abbastanza potente. Niente, piazziamo il motore a vapore. Tasto 6. Lo mettiamo qua. Energia meccanica. Vediamo come funziona. Combustibile. È combustibile. Ci metto la legna? Sì. Allora. Connetti. A questo. Ah, stoccaggio. Posso metterlo qua. Ok. No, però non funziona. Perché non funziona? Devo collegarlo due volte. Sì, adesso sì. Vediamo cosa sta facendo. Ma non credo sia una zona giusta questa di completamento. Però lo facciamo fare. Intanto voglio magari... Eh, no. Vorrei togliere questo. Perché non sta producendo niente questo. Mi sta dando quasi fastidio. Vediamo se funziona adesso. Ah, ha già finito la... Ok, dai. Metti dentro carbone, va. Uno di carbone. Adesso funziona. Però non sta scavando niente. Quindi sarà... Vabbè, intanto premo il 2 e mangio. Ok. Vedete che premendo CTRL mi prende l'accetta. In questo caso inizio ad abbattere questo. E prendo altre cose. In realtà dovrei usare questo menu qui per depositare all'interno le cose che non mi servono in modo da liberarmi di un po' di roba che non mi interessa. Infatti adesso ho preso anche queste. Le butto dentro che sono i ramoscelli. Solo che qua non sta scavando. Ma non capisco perché. E insomma ha lasciato libero. Infatti posso andare anche nell'altra metà del... del mondo. E questa è una genialata. Provi in ausia. Modifica velocità di rotazione della visuale. No, non ho problemi al momento. Ho preso un osso. Questo apre il forziere di combattimento. Minibot e le corp. E' disattivato ma sembra che qualcuno l'abbia programmato da remoto finché entra in modalità omicida all'attivazione. Ah, è questo. Ok. E' diventato praticamente un boss alla terraia. E che cosa è andato? E che cosa è andato? Tutto finito. Tutto finito. Posso riaprire gli occhi? Hai ancora tutte le dita? Sì. Allora, posso aprire questo? Proiettile. Braccio destro dell'estrattore di risonanza. Posiziona sulla base dell'estrattore di risonanza. Ok. Abbiamo un po' di roba. Trasmissione omni. Diario recuperato. Bellino perché è comunque tradotto in italiano come potete vedere. E sembra essere molto interessante come titolo. E si presterebbe magari anche per una live. Ci penseremo sicuramente. Allora, questa è la trasmissione. Mentre abbiamo una pistola. Che prendo subito. Un proiettile. I proiettili. E questo. Ok. Questo cos'è? No. Questo. Voglio sapere cos'è. Ma col martello questo. E si prendono questi materiali qui. Cosa butto? Butto l'osso. E lì sopra c'è qualcosa comunque. Queste non mi attaccano. Le ho attaccate io prima. È carina come idea comunque. Adesso facciamo magari un giro completo del pianeta così vediamo. Perché poi c'è il nucleo al centro del pianeta che è quello più... diciamo più caldo. Impara a coltivare terraformare. Se pensate di aver finito con i forzieri ti attende un bruco risveglio. L'hai capita? Brusco risveglio? No? No. Zio. Posso sparare? Mi consumo i proiettili. Questo è un forziere... Non buttarlo via. Un forziere di terraformazione. Buttalo via questo. E l'hai coppia creati come trovata pubblicitaria per frequentemente gli ambientalisti. Devi solo coltivare delle piante giuste e nelle vicinanze si aprirà. Ok. Questa è un'altra cosa da fare. Questa è la possibilità di muotare. Abbiamo nei nemici. No, voglio completare il giro perché poi ci... ci dedicheremo il tempo giusto a questo titolo quando sarà. C'è danno da caduta. Mamma mia, è quasi... Cioè sembra proprio di... Piove? Ma danno? Non è solo pioggia? Solo pioggia. Pioggia molto grande però. Tecnicamente dovremmo essere... Dovremmo aver fatto il giro. Questo non attacca. Ah, guardate qua cosa c'è. Questo cos'è? Vediamo un po'. Miniera. Rame. Dovrebbe... Prendere uno spazio. Però voglio sapere cos'è. Prometto di ferrite. Pezzo di rame, sì. Me lo tengo in mano così qui fin quando... Qua da coltivare. Ah, belline le nuvole così! Adesso il giro l'abbiamo fatto. Quindi credo che torneremo... Alla base immagino. No. Sì, 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 sì. Ci sono questi che sono molto cattivi. No. Conchè si spara cattivo. Non c'erano prima. Vabbè, depositiamo. No, i proiettili no. Fammi un po' vedere se posso piazzare questo. Il 5. Trova la base dell'estrattore di risonanza. No, non ce l'ho. Non ce l'ho, quindi lo tengo qua. Lo metto qua e vediamo poi se salta fuori qualcosa di interessante. Vado a prendere altri cibi. La cosa interessante è che comunque adesso stiamo alimentando qualcosa che non ci serve perché dovremmo avere i cristalli. Ma al tempo stesso magari andiamo a vedere se c'è qualcosa di nuovo da sbloccare. Estrattore di semi. Abbiamo nuove cose che abbiamo trovato. Estrattore di semi è una struttura che trasforma le colture in semi. Barile d'acqua piovana. La voglio fare subito. Subito. Lo facciamo. Mi manca il lingotto di ferrite. Bene. Lo facciamo. Vi. Questo. Ok. Buon. E mettilo qui. Ci sta facendo piovere apposta per far vedere come funziona. Perché più gli cade l'acqua sopra, più pioverà. Più si riempie. Solo che se non cade l'acqua qui, adesso sta arrivando un'altra nuvola anche di là. Più che altro è tutto legato al secchio vuoto. Cosa dice? Attivare l'arcobaleni? Perché me l'ha chiesto? Vabbè, intanto si sta riempiendo. La maggior parte degli eventi meteorologici è facoltativa e deve essere attivato accanto all'etichetta evento. Ah, ok. Intanto qua abbiamo riempito. Dovevo fare un secchio poi per... Voglio capire però il motivo per cui mi fa vedere solo questi adesso. Cioè se io volessi vedere tutto... Armi. Materiale pericoloso, no? Se io metto la pistola qui, mi dice pistola d'alternatore. Ok. No, voglio provare a vedere il rame. Se riesco a trattare il rame... Nella fornace e farlo diventare un lingotto. Vediamo. Questo... Ah, vabbè, tanto questo me lo fa lo stesso. Ah, ne servono due. Niente, come l'ho detto. Niente, come l'ho detto. Lascialo lì. Allora, fammi vedere una cosa allora. Se io prendo il rame e lo metto qui, mi dice l'ingotto di rame è fertilizzante. Vabbè, non so perché il rame, ma... È veramente carino perché poi, se si va avanti, si creeranno le varie tubazioni per portare acqua. Vedete che qua la vita, l'acqua, cioè ogni elemento della fauna, della flora, insomma, hanno bisogno, soprattutto la flora, hanno bisogno di acqua per crescere e luce. Ok, e quindi bisognerà andare un pochino avanti ed esplorare. Ora, non so come si comporterà il gioco scavando in una zona infelice come questa, ma nulla mi vieta. Questo cos'è? Voglio vedere un'ultima cosa. Questo è molto importante. Beh, sì. Questa è bellissima come cosa. Non so se arriverà qua. Sto finendo che proiettili. No, però l'acqua si è, credo, fermata qua. Meccanismo di base ho raccolto. Dico, può dare mal di mare, eh. Però, intanto sappiamo anche... Perché voglio capire, perché mi lascia la pistola lì. Lascia questo. E vedete che qua abbiamo la possibilità di raccogliere dei semi. Ah, ok. Ok, quindi possiamo ripiantarli. Ok, ok. Davvero interessante. Questa era Minicology. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Io lo trovo veramente particolare. E ci tenevo a mostrarvelo un pochino più così nel dettaglio. Per evitare che facciate come me, che l'ho visto la prima volta e ho detto Ma no, ma hai fatto male. In realtà no. È veramente molto, molto carino. Fatemi sapere qua sotto, come al solito. E alla prossima. Ciao, ciao.